Si dice che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, abbia messo il veto sulla nomina di Paolo Savona, Ministro dell'Economia. E se questa notizia fosse confermata avrebbe dell'incredibile, perché la verità è che non esiste alcuna norma della Costituzione italiana che consenta al Presidente della Repubblica di rifiutarsi di nominare un Ministro solamente perché non ne condivide le idee. E se questo veto fosse confermato sarebbe drammaticamente evidente che il Presidente Mattarella è troppo influenzato dagli interessi delle nazioni straniere. E dunque Fratelli d'Italia, nel caso in cui questo veto impedisse la formazione del nuovo governo, chiederà al Parlamento italiano la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento a norma dell'articolo 90 della Costituzione. perché di gente che fa gli interessi delle nazioni straniere e non degli italiani ne abbiamo vista fin troppo.